Anticipazioni da Cardiopalma, prima tra tutte quella che riguarda la morte della madre di Emilia. Nell'episodio 1045, Severo va a trovare la bella locandiera, dicendo di doverle parlare con una certa urgenza. I due andranno a sedersi davanti alla locanda e lui inizierà a raccontare ad Emilia alcuni particolari di sua madre, Natalia. Secondo la versione ufficiale, la donna sarebbe morta a causa di una terribile malattia, la tubercolosi. Ma Severo è pronto a sconvolgere Emilia e a dare una nuova versione al suo passato. L'uomo, dopo qualche esitazione, prenderà coraggio e le dirà che ad accelerare il fatale decorso della patologia di sua madre Natalia è stata una donna che conosce bene. Ad uccidere sua madre è stata Francisca Montenegro, con la stessa identica modalità che utilizzò ai tempi per Peppa. Emilia è sconvolta, non vuole credere a quello che ha appena sentito. Dunque, anticipazioni shock del segreto, con la scoperta dell'ennesimo crimine di donna Francisca. Raimundo, una volta saputa la sconcertante verità, sarà ancora in grado di perdonarla?